Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà lento avvicinamento all'Italia di una perturbazione atlantica che in realtà raggiungerà le nostre regioni solo alla fine del giorno. Quindi se controlliamo la nuvolosità prevista, vedremo che in giornata saranno presenti comunque anche ampie zone di sereno, quindi tutto sommato domenica discreta ma sempre piuttosto grigia in pianura padana e poi appunto alla fine del giorno si avvicinerà questa nuova perturbazione. Anche come precipitazioni poco da segnalare, gran parte della giornata sarà all'insegna del tempo asciutto, però alla fine del giorno appunto si avvicineranno queste nuove piogge che andranno a interessare inizialmente le regioni di nord ovest, soprattutto la Liguria e la Toscana tra pomeriggio e sera. Quindi in definitiva ci attende una domenica che avrà anche ampie schiarite, dicevamo, quindi un po' di variabilità sì ma la prima parte sarà anche discreta. Però appunto alla fine del giorno ecco arrivare questa nuova perturbazione, peggiora al nord e sull'Alto Tireno, piogge inizialmente soprattutto in Liguria e in Toscana e lunedì vi anticipo giornata molto variabile e instabile in tutta Italia. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.